Sono Andreina Pellegrini, cittadina dell'Aquila e vorrei dare il contributo solo per partecipare con una parte storica di questa città. Il mio palazzo, Palazzo Cresi, si trova in Via Roma, che era l'antico corso dell'Aquila. Palazzo Cresi, insieme a Palazzo Porcinari, faceva parte delle quinte naturali architettoniche che erano da cornice alla piazza di San Pietro Accoppito, piazza di San Pietro, che è una delle quattro piazze capo quarto con la chiesa di San Pietro Accoppito, che fu proprio costruita nella costruzione dell'Aquila dagli abitanti dell'antica Poppleto, l'antica Coppito. Palazzo Cresi, un palazzo che ha subito le devastazioni di diversi terremoti. Oggi lo vedo distrutto e ferito, però resta sempre la mia casa. Fu costruito dai marchesi Cresi, che si unirono successivamente con i Bastarini e così si estinsero, nobiltà di rilievo in quanto iscritti anche alla nobiltà romana. La mia famiglia solo alla fine dell'Ottocento si unì con i Bastarini per matrimonio. Comunque il palazzo a noi è giunto per il ratto di acquisto. Palazzo Bastarini Cresi è un palazzo del Cinquecento, presumibilmente costruito nel XIV secolo e ci sono elementi che ce ne danno una chiara lettura con la cornice a tortiglione a destra del portale. Però subì una successiva costruzione nel XVI secolo e presumibilmente non prima del 1548. Purtroppo dell'impianto originario cinquecentesco si conserva molto poco, perché il terremoto del 1703 già l'ha mancato di parti importanti. Infatti solo il piano terra ha elementi architettonici cinquecenteschi. Con il terremoto del 1700 tutti i soffitti a cassettoni furono distrutti e furono ricostruiti degli orizzontamenti voltati a padiglione, che purtroppo anche quelli furono danneggiati dal terremoto del 1915 e si fu costretti ad abbatterli negli anni settanta proprio per pericolosità. La cosa particolare è questa, legata però un po' a me. Io a tutt'oggi, dico tutt'oggi perché penso ancora di vivere nella mia casa, io continuo a bruciare il legname del 500. In casa mia non è stata mai comprata legna, perché abbiamo bruciato i residui delle formelle dei soffitti a cassettone. E altro fatto significativo di Palazzo Cresi, in una zona che è stata sempre martoriata dai terremoti, il Camerlengo dell'Aquila, Alessandro Cresi, morì proprio in quel terremoto dentro questo palazzo. Purtroppo oggi ne rimane solo una parte, come dicevo, nell'impianto del piano terra e nel piano nobile per quanto riguarda alcuni elementi architettonici, successivamente poi ha subito vari interventi anche con abusi. Il palazzo ha questo strano destino di non essere finito, non fu finito nel 500, già guardandolo in alto si vede l'interruzione del secondo ordine e anche nel 700 con la ricostruzione solo le volte del piano nobile furono ricostruite, il secondo piano mai finito. Io ho un legame particolare a questo palazzo come famiglia. In questa casa, questo era l'antico corso dell'Aquila, il centocinquantesimo dell'Unità d'Italia, io ho rimesso il tricolore anche su una casa distrutta. In questa casa sono conservate le ossa di un mio avo che partecipò all'Unità d'Italia, fu esole con Mazzini e insediò il primo governo prodittatoriale qui all'Aquila per l'unità. Lui, come tutti all'epoca, era massone, faceva parte di una setta che si chiamava la falange sacra. Le ossa di questa falange sono in questa casa, io ho traslocato di tutto, però queste ossa non le tirerò fuori e non le tirerò fuori nemmeno con la ricostruzione. In fondo è un modo per mantenere la memoria della mia famiglia ferma in questa casa.